Domenica 5 giugno l'Associazione Musicale Nazareno Gabrielli Città di Tolentino ripropone anche in questo 2022 i saggi di fine anno dei vari corsi. Qui con noi un componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Enrico Casadidio con cui parliamo appunto di questa realtà associativa cittadina che vanta davvero una lunga tradizione. Sì, vanta una lunga tradizione, una lunga tradizione è stata messa un po' a rischio in quest'ultimo periodo soprattutto si era fermata nel senso che purtroppo con le varie vicissitudini però finalmente si torna a far qualcosa in presenza nel senso che finalmente il saggio non si fa più online come l'abbiamo fatto in questi anni che siamo stati costretti in casa ma finalmente si torna in presenza come è stata in presenza le elezioni pure lì è stato un bello sforzo per l'associazione che con tutte le varie normative ma soprattutto la sicurezza dei ragazzi che era la prima cosa che ci interessava e degli insegnanti. Il programma prevede i vari brani per le varie difficoltà che i ragazzi hanno durante l'anno raggiunto magari dal bambino più piccolo che farà le sue prime note e dal ragazzo più bravo, più cresciuto che fa lezioni da diversi anni. Quindi è un programma molto variegato, soprattutto è una sfida per i ragazzi perché un conto magari stare in sala a prove con l'insegnante solo oppure appunto stare a casa e suonare dentro la caramenetta un conto magari esibisci davanti a un pubblico anche se i propri genitori ma in realtà è pubblico quindi anche a livello formativo è molto importante. Si torna finalmente in presenza quindi una domenica pomeriggio interamente dedicata alla musica negli spazi del Castello dell'Arancia. Sì, nel bellissimo castello che abbiamo qua a Tolentino fortunatamente saranno divise in due sale dalle 15 del pomeriggio fino alla fine dello svolgimento del saggio sia alternando tutti i vari ragazzi da canto a chitarra tutti i strumenti a fiato e appunto sarà un pomeriggio di musica speriamo anche di divertimento per chi accorrerà. Altro membro del consiglio direttivo Laura Fermanelli con cui parliamo appunto di tutto quello che accadrà nel pomeriggio di domenica al Castello oltre 100 i bambini che si esibiranno. Sì, quest'anno insomma abbiamo ricominciato con le lezioni in presenza in realtà avevamo continuato anche l'anno scorso solo il saggio avevamo svolto in maniera online e anche due anni fa sotto pandemia abbiamo comunque continuato con le lezioni online proprio per mantenere quel filo, quel contatto diretto con gli allievi e per dare comunque una scadenza a cadenza settimanale per fare attività musicale. Quest'anno abbiamo ricominciato pensando ad uno spettacolo finale in presenza quindi dal vivo utilizzando appunto il Castello d'Arancia i bambini, i ragazzi e i bambini perché abbiamo da bambini molto piccoli anche a molti adulti sono oltre 100, 100 esibizioni in realtà quindi ci sono anche duette, quindi sono anche di più tra loro oltre ad avere gli allievi della nostra scuola di musica abbiamo anche tutti i bambini che frequentano il progetto Finalmente si suona che è un progetto che svolgiamo dal 2005 all'istituto comprensivo Don Bosco per i problemi legati al Covid perché parliamo di strumenti a fiato quest'anno l'abbiamo svolto fisicamente nella nostra sede nelle aule della nostra sede e il saggio lo faranno insieme a tutti gli altri allievi della nostra scuola di musica il saggio si svolgerà in due sale in contemporanea quindi nell'auditorium massi e nell'altra sala al piano di terra quindi nell'auditorium massi si svolgeranno tutte le esibizioni che prevedono l'utilizzo del pianoforte quindi anche accompagnamenti di strumenti perché noi abbiamo oltre agli strumenti a fiato abbiamo anche pianoforte, chitarra, batteria, violino, canto eccetera più tutti gli strumenti a fiato quindi le esibizioni partiranno dalle ore 15 e andranno avanti fino al termine di tutto il programma musicale